ho fatto i complimenti ai miei ragazzi hanno fatto il massimo quindi c'è adesso del mercato importante che ci aspetta la società le idee ben chiare sono convinto che faremo gli acquisti giusti ringraziando tutti quelli che fino a questo momento sono stati con noi che hanno fatto veramente il massimo adesso inizia un campionato diverso e ci aspettano tante battaglie però oggi veramente la squadra ha fatto bene è stata intensa non abbiamo avuto paura e abbiamo avuto qualche occasione importante qualcuna da rivedere però però sono contento insomma chiaramente c'è la sconfitta che amara però guardiamo avanti a quale ti riferisci il gol perché penso insomma che sia sia inciampato su un suo compagno il campionato che dovevamo farci che dovevamo fare questo ce l'aspettavamo adesso adesso speriamo di tirarci fuori da questa situazione fare meglio sul gol o no non l'ho visto sinceramente ero coperto dall'assistente avevo un paio di giocatori in che mi coprivano mi impallavano la palla e ripeto tutti hanno fatto il massimo quindi bisogna fare i complimenti ai miei ragazzi e adesso guardiamo avanti abbiamo io penso che grazie a tutti 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 grazie a tutti